ciao ragazzi come stiamo oggi non sono sola non sono sola ti presento vi presento monica lei è la mia amica slash conquilina che esiste davvero non era un miraggio davvero ho una conquilina eccola qua ciao a tutti piacere siamo carichi come oggi un po d'ansia me sta venendo l'ansia ci sta la formazione non abbiamo detto la formazione la puoi dirti no vai che non l'ho letta immagino già ragazzi ma è la stessa dell'altra volta essenzialmente unana in porta darmian acerdi bastoni a difesa danfries mkhitaryan brozovic barella edi marco purtroppo per noi e in attacco gecko lautaro fuori lukaku fuori gosens tutte le altre bene o male scelte obbligatorie dai iniziata diamo carichi schicchino provo a giocare come all'andata dai dai vai 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 pare che e poi si bai e e oh ha portato fortuna la maglia ma barella mamma mia l'uomo della cernia attenzione dai dai ciao joao ha portato fortuna la maglia diamo bare e che gol che gol veramente gran gol uuuu attenzione unana bella bravo era pure bloccata eh si parata laser di andano esatto quant'era quotata oh cazzo vuole nooo ma dimmi te una volta che segna glielo tolgono ma cos'è cosa diceva fallo ma digerissima no non ci credo si però danfris dorme eh liberissimo darniamo ortacci tu eh no ma guarda che non so se regolare eh si ma che cazzo fa danfris eh ma cosa fa ma infatti guarda come l'ha marcato ma si incazza pure con darniamo ma non viene andato a prendere quello avanti che era solo era suo questo era di danfris questo e si incazza pure quanto quanto è stupido mamma mia quanto è stupido da dietro ah è regolare ma porra vai lauti ma aspetta oh ma uuuu ho detto aspetta ma quasi eh vai lauti uuuu cattivo il mio forno così mi piace dai bastoni col piedino fatato uuuu ma attenzione occasione di Dzeko sessantesimo dai mister deve cambiare eh deve cambiare mister siamo un po' a corto adesso attenzione Dzeko Dzeko no ma perché sei così lento porca Di Marco si lautaro si è qua bravo Di Marco diamo qua bravo Di Marco gli l'ha messa in porta si dobbiamo dirlo no vero eh per l'amor del cielo però sbagliarlo da lì ragazzi si era in porta con la palla lì eh oh ci sta sei lì la devi mettere solo lì eh ma per forza non è che hai tante possibilità oh questa è una bella azione giusta vai correrà nooo non ci credo no vabbè attenzione no vabbè bello tra l'altro attenzione non ci credo che cosa ha fatto poi ma che gol ha fatto poi ma io l'ho sempre detto che sei forte ma vaffanculo ma che gol appolo di testa facciamo Pena che fastidio prendere i gol te lo giuro madonna due gol di testa inutili inutili Completamente Corriere neanche saltato Guarda guarda No qui Lukaku Tra due Ma era sull'altro Nei calci piazzati Facciamo pena Qui un anno Non ne poteva niente Che palle raga Ma infatti mi dà fastidio Prendere i gol così Ma proprio fastidio Dai Lukaku Vai Lukaku No Ma che fallo è Ma va Ma che fallo è Mi dissocio arbitro Oh 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 Ma dai ma che polli Ma che nervoso Pareggiare in sta partita Che nervoso Che nervoso Io penso Io penso di portare di un merda Mi ha tolto anche il gusto Di esultare Sto cazzo di gol Che Ma che polli Che nervoso Pareggiarla sta partita Oh Dal brogio Chiudine Oh 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 Andiamo Andiamo Che nervoso Però pareggiarla Ti giuro Guarda Che nervoso Si ma raga Cazzo esultate Siamo in semifinale Ma loro parli In campo Madonna mia Che tristezza Vi avrà dato questi Che non pareggiava Però vaffanculo Ho capito Ma sei comunque In semifinale Cazzo esulta Infatti si Tutti morti Così in mezzo al campo Cazzo è sta roba Guarda di Guarda che morti Ma sono giù Questi tre gol Certo che eravamo In vantaggio Dei due gol All'andata Ci sta Un pareggio Un po' amaro Devo essere sincera Perché Potevamo E dovevamo Vincerla Questa partita Quindi si chiude Con un pareggio Che ti rimane Un po' così Però ragazzi Siamo in semifinale Di Champions Quindi che ce frega Bene Bene Quasi tutti Devo essere onesta Quasi tutti Bene Lautaro Che è tornato al gol Perché Ero veramente Preoccupata Giacone Poi è entrato Correa Ragazzi Ha segnato Correa Miracolo Di questa giornata Quindi niente Tutto sommato bene Tutto sommato bene Cambi Che ci sta Niente da dire Partita sufficiente Andiamo a giocarci Ragazzi Milanini Milanini Vi aspettiamo Vi aspettiamo Milanini Milanini Vi aspettiamo Vi aspettiamo Venite 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 Dai